Gli abitudini degli italiani, tutti i giorni mangiate pasta? Quasi tutti i giorni a pranzo si mangia la pasta, o la pizza o la piadina, noi mangiamo. Ok, e il riso ogni quanto l'ho mangiato? Oggi ho mangiato il riso, lo zafferano, no, una volta alla settimana. Ogni quanto mangiate pesce? Eh, pesce poche volte. Perché? Sì, una volta alla settimana. Il salmone? Vabbè, il salmone l'ho messo in freezer. Vabbè, ho messo il salmone, però lo mangiato. Comunque prima volta alla settimana. Sì, perché io mangio sempre il tonno quando io in ospedale, anche due volte alla settimana. Tonno con fagioli. E se tu mangiate il pesce, il venerdì. Il venerdì ci faremo la pasta con il fagioli. Ma perché si mangia il pesce il venerdì? Perché non ci deve mangiare carne. Perché da noi cristiani il venerdì non mangiamo carne. No, tendenzialmente la carne dovresti mangiare due volte alla settimana e basta. Ok, ok. E a tavola voi bevete il vino o no? No. Noi siamo diventati molto viziosi, Paolo. Quindi beviamo l'acqua del rubinetto, beviamo la Coca-Cola o la birra quando c'è per esempio la pizza surgelata. Quindi la compriamo surgelata, scaldata al forno e delle volte anche il vino. E compro quello meno costoso che ci sia. Sono un fanatico. E' il Tavernello. Non ripeti? Il Tavernello? No, no, no. Altri vini che dall'Idol che vengono sempre con dei prezzi molto bassi io li compro. Ma tutto quanto costa una bottiglia di vino? Io la pago al massimo 1,25. Euro? Sì. Pochissimo. Certo. Una volta prendevamo da 5 euro l'uno, insomma, quelle dei Tremonti. E quanto costa un caffè al bar, un espresso? Uno e uno. Un euro e dieci. Un euro e uno e dieci. E un cappuccino? Due euro. Due euro e mezzo. E cosa ha mangiato? E poi dopo andiamo a messa. Cosa mangiamo? Fette biscottate con latte, caffè d'orzo, orzo e latte, orzo e zucchero. Si fa una miscela e poi si imbeve le fette biscottate e poi le medicine. Te lo dico io come lo prendo, Paolo. Allora, io scaldo un minuto esatto al forno a microonde un bicchiere, sempre quello di latte. E' del latte in te, latte scusa, totalmente scremato, senza lattosio, poi c'è questa polverina che compriamo, come ti ho detto mamma prima, con un po' di zucchero. E poi ci metto due fette biscottate dentro e poi con un po' di zucchero e caffè. Facci vedere bene l'orzo che non si vede. No, te lo ha vicino alla tua facca. Ecco, l'orzo e il caffè insieme. Si, è una miscela. E come sono le fette biscottate? Come sono, Fabio? L'unio prende due, io uno zero. Oggi niente. Cioè, tipo pane secco, ho capito. Basta, niente zuccheri. Niente marmellata, niente... Io, ho iniziato quest'inverno... 77 kg, Fabio. Torno, anche 76, torno a scaldare altro mezzo minuto, tutto quanto la miscela così composta, e ci metto dentro un cucchiaio di miele. Ah, il miele.